amici carissimi di auto occasioni ben ritrovati per una nuova puntata insieme che non ho dubbi vi piacerà particolarmente perché oggi sono venuta per voi dalla regina delle concessionarie dalla regina del risparmio mi trovo da queen car e in particolare nella sede di car magnola io sono sempre in splendida compagnia sono con fabrizio ciao fabrizio ciao a tutti ben ritrovati iniziamo questo mese di maggio alla grande perché sono ritornati gli incentivi di rottamazione statale quindi hai un veicolo da rottamare nessun problema vieni qui viene rottamato e hai uno sconto pari fino a 10 mila euro per il tuo usato che vale zero ma come paghiamo questa autovettura con piccoli canoni mensili per 36 mesi dopo tre anni cambi l'auto senza costi aggiuntivi e senza maxirate quindi un trattamento speciale per di più in una cornice meravigliosa perché devo farti complimenti fabrizio questa sede di car magnola è davvero elegante raffinata nuovissima quindi è davvero un piacere venite con i vostri occhi anche per cogliere tutte le offerte di cui adesso vi daremo un assaggio perché noi siamo pronti a seguirti fabrizio iniziamo subito 10 mila euro di maxi risparmio parliamo della 500 elettrica 350 chilometri di autonomia zero emissioni zero costo di carburante caricate solo l'autovettura 350 chilometri di autonomia con canoni a partire da 199 euro al mese tutte pronte consegne parliamo della 500 elettrica red bellissima autovettura monopattino incluso attenzione al prezzo 199 euro al mese questa bellissima 500 red 350 chilometri e continuiamo sempre di rottamazione incentivo statale 7 mila euro di sconto per la panda può essere vostra a partire da 8 mila 900 euro con l'operazione evergreen canoni da 89 euro al mese per tre anni dopo tre anni scegli la tua nuova auto senza maxirata abbiamo anche in prota consegna pensate la versione gpl avete paura del caro carburante nessun problema prendete la versione gpl sempre in prota consegna esenzione bollo a partire da 119 euro al mese e non poteva mancare la panda cross ibrida gpl tutte in prota consegna pensate con l'operazione evergreen 149 euro al mese e abbiamo anche in prota consegna pensate la panda 4x4 city cross cross attenzione al prezzo a partire da 159 euro al mese tutta la gamma 500 in prota consegna ibrida gpl esenzione bollo con l'incentivo di rottamazione può essere tua da 10 mila e 600 euro con canoni da 109 euro al mese e anche qui non può mancare la prota consegna parliamo di tipo station wagon 5 porte 1000 turbo benzina pensate 100 cavalli con l'incentivo di rottamazione e la versione 1600 può essere vostra a partire da 13 mila 950 euro pensate con canoni a partire da 139 euro al mese tutta la gamma 500 l l'autovettura ideale per la famiglia se avete due bambini questa è l'autovettura ideale un piccolo SUV a partire pensate con l'incentivo di rottamazione 15 mila 950 euro 1400 benzina con l'operazione evergreen 149 euro al mese sempre pronta consegna perché aspettare 120 giorni 180 giorni un'autovettura venite qui alla queen car e lancia y ibrida e gpl tutte in prota consegna con canoni a partire da 110 euro al mese queen car concessionario ufficiale abarth presenta la nuova 695 185 cavalli s in prota consegna a partire da 299 euro al mese tutta la gamma jeep in prota consegna jeep renegade benzina o diesel pensate a partire da 199 euro al mese abbiamo anche prota consegna un bellissimo jeep compass chilometro zero vetture aziendali a partire da 249 euro al mese tutta la gamma mitsubishi in prota consegna space star 1200 benzina come questa autovettura 5 anni in garanzia 99 euro al mese e abbiamo sempre in prota consegna la versione 1200 gpl pensate a partire da 119 euro al mese esenzione bollo tutta la gamma l200 in prota consegna club cab in forme intense a partire da 259 euro più iva tutta la gamma fiat doblò in prota consegna 1.3 multijet a partire da 149 euro al mese 500 1200 benzina 139 euro al mese peugeot 3008 1600 hd 130 cavalli a 249 euro al mese 1300 multijet parliamo di fiat tipo a soli 149 euro al mese poi abbiamo anche le opel crossland 1200 turbo benzina 130 cavalli attenzione prezzo 149 euro al mese e abbiamo tutte le nissa micro aziendali argento arancione a partire da 129 euro al mese una puntata meravigliosa soprattutto per tutti coloro che non hanno il tempo e la voglia di aspettare quindi vogliono veramente trovare la propria vettura in pochissimo tempo perché qui si può usare la parola magica pronta consegna sì qui abbiamo 400 autovetture la voletta è benzina diesel gpl ibrida full electric tutte in pronta consegna la voletta è nuova chilometro zero vetture aziendali sempre pronta consegna con sconti fino al 51 per cento ma soprattutto affrettatevi perché è ritornato l'incentivo di rotamazione il tuo usato che vale zero può essere valutato fino a 10.000 euro di maxi risparmio grazie per essere stati con noi un caro saluto da queen car da auto occasioni da fabrizio e da federica